Ora mettiamo nel palleggio normale un ostacolo in più, che è un palleggio di destro o di sinistro e il piede opposto ci andiamo di interno, uno, 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 quindi verrebbe così. Vedete la palla rimane sempre qua, ok vai Matti, ok vedete la palla la deve cercare, lui adesso sbaglia perché non piega benissimo la gamba sinistra, lui la gamba la tiene così, se tu la tieni così la palla va là, tu la gamba la devi alzare, quindi più la apri, vedi, più, guarda, quindi aprite l'anca, aprite l'anca, la palla rimane qua, sei tu che decidi dove va il pallone, vedete, se io l'anca la tengo mezza chiusa, la palla dove va là, prova, apri l'anca, aprila, senza paura, di più. Ok, ok. Piano piano questo serve anche nel sbloccarvi le anche, che nel calcio è importante avere le anche mobili, noi ce le abbiamo molto bloccate, quindi esercizi sempre che puoi riuscire a girare più possibile l'anca. Ora facciamo un terzo esercizio, sempre facile, non è facilissimo, diciamo che forse è il più difficile dei tre, facile nel senso di palleggi, parliamo sempre di palleggi e di controllo e sensibilità. Ora eseguiremo una piramide, una piramide cosa vuol dire? Una piramide noi andremo a fare un tocco con ogni parte del corpo, dal destro al sinistro. Non sarà facile, ve lo dico subito, sembra forse guardandolo non una cosa difficilissima, ma vi assicuro che è difficile da coordinarsi. Quindi noi arriviamo a avere uno, 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 uno e uno. Ok? Fatto così il giro, arrivi dall'altra parte e la palla la metti giù. Vai Matti, non aver paura anche se sbagli non fa niente. Bravo, 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 ricomincia. Senza paura. Quindi non succede nulla se uno sbaglia ragazzi, non è facile. Fai la piramide. Uno, uno, va bene, ricomincia. Ok? Se tu adesso sei in difficoltà a fare questo esercizio, vi do un consiglio. Incominciate con il uno, due. Quindi, incomincia con uno, uno, due. Vai. Uno, due. Ora incominciamo con l'altro. Uno, due, tre. Quindi è uno, due, tre. Vai. Uno, due. Eh, questo è il difficile. La palla devi portarla sulla testa. Uno, due, tre. Ok? Ok? E adesso cerchiamo di passare dall'altra parte. Quindi viene testa, coscia, piede. Quindi testa, coscia, piede. Testa, coscia, piede. Questi esercizi rifateli tante volte. Rifacendoli tante volte, prima o poi, incominciate a prendere piano piano l'esercizio in un'altra visione. E' quello di averlo più semplice possibile. Questo è il terzo esercizio dei palleggi. Ci sono tantissimi altri tipi di palleggi che si possono fare. Se avete un compagno, un'altra cosa fondamentale è, via il pallone, è l'esercizio uno di fronte all'altro. Quindi, palleggiamo insieme. Quindi lui la butta là, io gliela ridò. Serve per il controllo. Vedete che lui adesso si sta, l'ha passata male e si sta un attimino allungando. Perché qua è il pallone che sta decidendo. Invece dovete decidere voi. Calmi e rilassati. Vai. Questo mette in difficoltà a me. Vai. Vedete? La palla, se tu sei rilassato, allarghi, puoi stare qua tutto il giorno. Però questi esercizi, ragazzi, lo dovete fare. Perché se non lo fate, è la base, quello dell'avere il controllo del pallone. E lo si può avere solo stando tanto tempo a fare questi piccoli esercizi che vi possono dare un aiuto. Forse non subito, ma più avanti sicuramente questo vi servirà. Grazie a tutti.